Allora, ciao a tutte, mi presento, mi chiamo Camilla, sono un'estetista onicotecnica, faccio le unghie anche, e truccatrice, o almeno ci provo. Sarebbe il lavoro che mi piacerebbe fare a vita, cioè mi piacerebbe fare questo, però purtroppo sappiamo tutti la situazione economica qual è, quindi adesso faccio tutto, anche questo, ma insomma faccio altro. Vi parlo un po' di me, sono Toscana, di Siena, una cittadina un po' particolare, dove c'è il palio, proprio in questi giorni domani c'è il palio, io non sono un'appassionata di palio, perché vi spiegherò poi un giorno. Ho deciso di fare video, perché è tanto che devo fare i video, sono sempre rimasta dietro a guardare, boh perché, non lo so, sinceramente non mi ha mai ispirato più di tanto farli, io comunque non avevo tempo, insomma, io credo che le cose quando si fanno vanno fatte al 100%, quindi adesso mi è venuta voglia e comincerò a fare video. Spero che vi piacciono, vi parlerò un po' degli acquisti che faccio, perché compro un sacco di make-up, vi parlerò un po' di tutto, un po' di quello che mi fa voglia di parlare, insomma, se faccio qualche unghia, spero, insomma, che i miei video vi piacciono. Vi parlo un po' di me, ho 28 anni, sono di Siena, ho un cane che si chiama Argo, è un gatto che si chiama Briciola, Trescino, in primis si chiamava Trescino, poi era un po' difficile, si chiama Briciola, Argo ha 12 anni, Trescino ha pochissimi, l'ho preso in ottobre, li adoro, sono i miei animali, sono la mia vita, ho una famiglia che mi vuole bene, ho una nonna di 90 anni quasi, la vedrete passare alla porta ogni tanto, perché io farò dei video, ma, cioè, cercherò di farli così, come mi vengano, le metterò in onda, insomma, non ho programmi, non li conosco bene, poi chissà più qua. Il trucco che ho oggi è un trucco normale, all'esterno ci ho messo il nero, ho fatto il marrone, poi ci ho messo un po' di rosato interno, scusate le botte, ma la scrivania, e niente, spero i miei video vi piacciono, spero che mi seguiate, e un giorno vi farò vedere la mia make-up table, insomma, tutte le varie cose, boh, ah, subito, a random, così, mi è arrivata una paletta oggi, quindi ve la devo far vedere, perché sono fiera e contenta di questa paletta. Allora, la paletta è questa, packaging è normalissimo, ne ho un sacco di paletta così, secondo me sono molto comode, anche quando, perché io faccio servizi fotografici, sono un po' alternativa, sono un po' tatuata, quindi cerco di fare la modella alternativa, no, a parte gli scherzi, si cerca di fare un po' di tutto, ora che i soldi sono quelli che sono. Insomma, sono molto attiva, cerco di fare sempre tante cose. Ero partita appunto facendo la truccatice per i vari servizi fotografici, e sono entrata anche a fare un po' la modella. Quindi, quando li porto in giro, nella valigia, perché vado a fare qualche shooting e mi trucco, sono comodissime, cioè, non si rompono, insomma, sono comode, a me piacciono un sacco. Ne ho tantissime, queste sono tre delle quindici palette che ho, così. Quella che mi è arrivata oggi è questa. Allora, l'ho swatchata solamente. Questa paletta a me piace un casino, perché ha dei colori molto belli, nonostante io ho un sacco di palette, così, quella da 120, quella da 180, ho i nude, insomma, ne ho un bel po'. Questa mi ha colpito i colori da morire, l'ho vista per l'appunto in un video di una ragazza tedesca. Non ne ho viste molte, eh, devo essere sincera. A me è piaciuto un sacco. Sono dei colori molto belli, guardate questo. Qui l'avevo già sbocciato di anzi, per l'appunto. Questo è questo pescato rosa che a me fa impazzire, veramente, mi piace un sacco. Non so la luce quanto vi renderà. Questo è un fucsia, molto bello, anche questo. Poi c'è questo che è un... Non lo vedo. Insomma, è questo un corallo. Bello, bello, bello. Di qua ci sono, come vedete, quelli un po' più scuri e di qua quelli un po' più chiari. Io l'ho pagata 10 euro su ebay questa. 10 euro la paletta più 1 euro di spedizione. Bella, devo dire, mi è piaciuta un sacco. Scrivente. Questo colore che vedete qua, l'ho preso appunto da queste due. E poi avrei fatto anche degli acquistini Essence. Se riesco a farveli vedere, perché mi si spenge spesso la macchina fotografica. Oramai abbiamo cominciato bene. Ve li faccio vedere. Avevo oggi un buono per prendere un prodotto Essence e regalo. Quindi con un prodotto se ne regalavano un altro. Ho preso questo, il regalo, che è Essence Eye Shadow. Non so se è della vecchia collezione. Perché qua da me è arrivato adesso Essence. Siena è arrivato adesso da un mese. Questo è il 44 It's Up To You. Shimmer Effect. Ed è questo colore bellissimo. Mi piace un sacco. È molto... È tipo un rosa perlato. Sembra un rosa corallato. Bello. Mi è piaciuto un sacco. Poi ho preso una matita marrone. Scura e dorata. Questi due. Comunque tutti conoscete la Essence. Quindi io vi faccio vedere giusto quello che ho preso. Perché la... Cipria Matte. La conoscete tutti. Ho anche l'altra. Quella in polvere libera. Questa è trasparente. E poi ho preso l'illuminante. Il Sun Club. Questo qua. Blonde Lighter Skin. A parte ha un odore pazzesco. E... Bello, bello. Mi piace un sacco. Sono dei colori scriventissimi. Se riesco a farvelo vedere con una passata ve li faccio vedere tutti. Guardate. Molto, molto, molto belli. Eccoli qua. E poi li unisci. Viene fuori questo. Belli, belli. Mi sono piaciuti molto. Già vedete oggi quante cose ho preso. Quindi... Vi farò vedere a breve qualcos'altro sicuramente. Va bene. Io vi saluto. Spero che tutte mi seguiate. Per qualsiasi cosa scrivete nell'info box. Qualsiasi consiglio. Apprezzamento. Anche qualche cosa di negativo. Se mi serve per imparare. Volentieri. E felice. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video. E vi dico ciao. Ciao.